Il treno regionale, 17373, di Trenitalia, proveniente da Maniago, è diretto a Sacile, delle ore 5.43, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Aviano, Buddoia-Polcenigo. Il treno regionale, 17372, di Trenitalia, proveniente da Sacile, è diretto a Maniago, delle ore 6.53, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 17375, di Trenitalia, proveniente da Maniago, è diretto a Sacile, delle ore 7.15, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Aviano, Buddoia-Polcenigo, Sacile-San Liberale. Il treno regionale, 17374, di Trenitalia, proveniente da Sacile, è diretto a Maniago, delle ore 7.37, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.